Sono qui con Huawei P40 Pro perché Huawei ci ha lasciato in anteprima una versione semi-definitiva della MUI 11, vediamo quali sono le novità, alcune grafiche, alcune a livello di funzionalità, sempre prestando attenzione al fatto che è basata su Android, in particolare la versione 10. Questo non deve stupire, infatti Android è un sistema open source, quindi Huawei può tranquillamente utilizzarlo e continuare a sviluppare la sua MUI, l'interfaccia personalizzata, sulla base di Android, quindi non c'entra niente questo con la questione del ban USA. Anche qui, per lo stesso motivo, se avete uno smartphone che già aveva i servizi di Google, le app di Google basato sui GMS prima del ban Huawei con già la MUI 10, quando riceverà la MUI 11 non cambierà nulla, continuerà ad avere le applicazioni di Google. Se invece avete un dispositivo come il P40 Pro che è nato senza le applicazioni di Google servizi di Google, con l'aggiornamento alla MUI 11 continuerà a non avere i servizi di Google e le applicazioni di Google, quindi sotto questo punto di vista perlomeno non cambierà niente. Vediamo invece cosa è cambiato per quanto riguarda proprio l'interfaccia. Cominciamo da qualche cambiamento che riguarda la UI e pensate che Huawei ci ha detto che sono stati impiegati addirittura un team di 100 persone per andare ad ottimizzare quelle che sono le animazioni, le varie composizioni delle scene, in modo che siano il più possibile intuitive e semplici da utilizzare per l'utente. Cominciamo però con una serie di cambiamenti che sono prettamente grafici. In particolare, entrando nella schermata di blocco, possiamo andare a vedere che ci sono nuovi display sempre attivo, ovvero Always on display. Entrando qua abbiamo la possibilità di selezionare dalla categoria artistico. Qui abbiamo l'effetto in stile Mondrian ed è anche modificabile, vedete, con dei layout a piacimento e possiamo anche scegliere delle palette colori differenti. Interessante anche questa possibilità, ovvero fare una foto oppure magari selezionarla, che ne so, tipo dalla galleria e automaticamente il sistema andrà ad estrarre i colori dalla foto che abbiamo selezionato o che abbiamo scattato per comporre il nostro Always on display. Anche questi sono nuovi, sono dinamici. Questo per esempio si muove leggermente dietro all'orologio. Abbiamo anche questa forma e quest'altra. Possiamo poi sempre andare a mostrare la data e mostrare le notifiche e la batteria. Queste sono le novità. C'è sempre la possibilità di andare qui a inserire un testo, ma possiamo creare anche degli stili completamente personalizzati scegliendo un'immagine oppure una GIF. Ci basterà andare qua e cambiare l'immagine. Per esempio andiamo a scegliere questa che è una delle mie preferite. Dopodiché, vedete, si può zoomare, si può ruotare l'immagine come meglio crediamo. La mettiamo qui nel cerchio. Poi possiamo scegliere altri elementi e facciamo applica. A questo punto l'Always on display sarà completamente personalizzato. Parliamo ora di animazioni, perché Huawei ha introdotto un nuovo concetto che ha chiamato One Take. In realtà la traduzione italiana sarebbe più corretta con piano sequenza, ovvero delle animazioni. Ve lo faccio vedere con il calendario in cui viene modificata la schermata, ma alcune parti rimangono sempre presenti. Avete presente nel cinema quando ci sono quei lunghi piani sequenze in cui non c'è mai un taglio e la scena va avanti per diversi secondi? Ecco, la stessa cosa avviene con le animazioni. Per esempio abbiamo la visualizzazione annuale, tocchiamo per il mese e vedete che comunque alcuni elementi rimangono sempre quelli. Poi ci spostiamo in settimana, agenda, però come potete notare la parte alta rimane sempre la stessa, quindi non ci sono dei veri e propri tagli nell'animazione. E la stessa cosa è stata fatta per alcune applicazioni di sistema, come per esempio la musica o ancora qua nella galleria in cui possiamo fare questa sorta di zoom. Sono belle. L'unico problema che io ho riscontrato è che nel momento in cui solo alcune parti del sistema vengono animate con un nuovo stile, poi tutte le altre parti sembrano un pochino più vecchie e quindi non c'è molta coerenza tra le varie parti. Non dico che le animazioni siano brutte perché già con le MIUI 10 era stato fatto un bel passo in avanti, veramente ogni parte è animata, però insomma magari si poteva lavorare per rendere queste animazioni one take un pochino più eterogenee in tutto il sistema. Ci sono anche diverse icone animate qua nella parte alta, ogni tanto compaiono nell'applicazione telefonica, nel momento in cui andiamo a registrare per esempio un audio o uno schermo, qua in alto compaiono delle icone animate simpatiche. Su questo non posso farvi vedere un granché, però entrando nelle impostazioni suono scoprirete che all'interno delle suonerie c'è un nuovo pattern di vibrazione, ovvero la suoneria, la vibrazione va in accordo con la suoneria, quindi non ci sono solo delle vibrazioni base, quelle per esempio a zanzaro oppure prolungate, ma sempre la vibrazione segue il ritmo del suono ed è una cosa anche questa simpatica, oddio niente di trascendentale, però ci può sicuramente stare. Qualcosa di più sostanzioso invece riguarda il multi window. Andiamo ad attivare la barra laterale che conosciamo già benissimo e poi andiamo a toccare per aprire una delle applicazioni. Vedete già che è cambiato qualcosa, c'è questa finestra flottante che rimane sempre in primo piano, poi potete andare ad utilizzare anche altre applicazioni e lei viene ridotta ad icona, però se non toccate diciamo in un punto preciso per andare a ridurla ad icona lei rimane espansa. Poi possiamo anche ridimensionarla in questa maniera, poi toccando qua va ad essere ingrandita e invece qua toccando nell'apposito tasto nelle app recenti possiamo andare a ridurre, a creare di nuovo questa finestra. La cosa interessante è che se andiamo ad aprire più app in finestra, adesso magari vado ad aprirne alcune. Poi quando apriremo diverse app in finestra verranno impilate in questa maniera, quindi toccando qua potremo avere una piccola anteprima di tutte le applicazioni aperte, possiamo aprire e chiudere e andare a richiamare le singole finestre. Su uno smartphone è possibile su uno schermo quindi di piccole dimensioni solo visualizzare una finestra per volta invece su un tablet anche più di una finestra per volta. Non è tutto qui in realtà perché se per esempio andiamo in una mail vi faccio vedere come è possibile andare ad aprire gli allegati direttamente in una finestra flottante. Per esempio qui apriamo un documento e vedete che immediatamente viene aperto qui nella finestra flottante. La stessa cosa avviene anche se per esempio stiamo guardando un video e ci arriva un messaggio chat oppure se stiamo navigando tramite un'app GPS e ci compare un nuovo messaggio possiamo fare direttamente tutto qui con l'applicazione flottante e poi ridimensionarla. Queste finestre flottanti tornano utili anche nelle multiscreen collaboration che raggiunge la versione 3. Purtroppo non ho immagini da farvi vedere perché bisogna avere PC manager aggiornato alla versione 11 e non è ancora disponibile in Italia però ecco si potranno utilizzare fino a tre istanze separate delle applicazioni sullo schermo del computer proprio facendo uso delle multi windows. Molto interessante e renderà sicuramente la vita più comoda per chi fa uso di questa funzionalità. Hey Celia! Eccolo qua avete visto che mi ha risposto l'attivazione vocale questo è l'assistente Huawei che adesso parla anche in italiano. Vado a fare uno swipe verso l'alto perché vi faccio vedere grossomodo quali sono le sue capacità. Se tocchiamo qui abbiamo la possibilità di vedere quelli che sono i suoi comandi che può recepire quindi Huawei music Huawei video quindi si può riprodurre il video riprodurre la musica mettere in pausa eccetera impostare una sveglia un timer un calendario fare una chiamata inviare un messaggio dettando anche il testo e poi effettuare traduzioni cercare su internet e controllare i risultati sportivi queste sono le possibilità. Diciamo che secondo me capisce abbastanza l'unica cosa su cui mi sono trovato un po' male è che non interagisce più di tanto se per esempio gli chiediamo di racconta una barzelletta puoi controllare i risultati della ricerca che ho trovato online vedete lui fa una ricerca online. La voce è suadente e cerca di avere un'intonazione interessante quando va a parlare all'interno delle frasi però appunto è abbastanza limitata per il momento diciamo che la trovo più utile per andare a comandare a distanza lo smartphone per alcune funzionalità piuttosto che come vero assistente personale che sfrutta il cloud e internet novità per l'applicazione galleria adesso abbiamo la visualizzazione per giorni oppure con uno swipe down abbiamo anche la visualizzazione per mesi. Non è tutto perché possiamo andare a bloccare gli album in questa maniera gli album non verranno visti dalle applicazioni di terze parti come per esempio quelle social che ci permettono di condividere una foto altra cosa interessante nel momento in cui io vado a condividere un'immagine in questa maniera al di fuori dell'applicazione fotografica vengono automaticamente eliminati i metadati dalla foto e questo può essere utile nel caso in cui insomma non vogliamo che vengano per esempio estrapolati i dati della posizione da una foto che è stata scattata che abbiamo condiviso sempre rispetto all'applicazione foto vale la pena sottolineare che tutte le funzioni automatiche come questa dei momenti che analizza il contenuto delle foto oppure creare quella che crea un video o che crea un collage fanno uso dell'intelligenza artificiale ma on device quindi le foto non vengono caricati in cloud per essere analizzate ma viene fatto tutto direttamente sul telefono questo dal punto di vista della privacy è certamente un valore aggiunto qualche novità anche per l'applicazione blocco note infatti in questo momento potremo andare a scattare una foto io ho provato qua e estrarre direttamente il testo dalla foto in cui eventualmente è presente questa cosa però diventa particolarmente utile nel momento in cui il testo possiamo condividerlo direttamente con computer quando abbiamo un notebook huawei compatibile e anche con altri dispositivi di huawei che su cui è stato effettuato l'accesso tramite l'account huawei anche per questo bisogna utilizzare multi screen collaboration in realtà la funzione è già disponibile state vedendo qualche immagine vedete che io posso scattare una foto poi condividerla direttamente tramite one op sul notebook huawei e poi una volta aperta posso andare ad estrapolare il testo può essere comodo se per esempio volete rendere digitale una pagina di giornale o qualunque altra cosa che avete a portata di mano e che volete trasferire digitalmente sul computer sempre sull'app note qua non è ancora attivata in questa beta ma ci sarà la possibilità di bloccare una nota quindi nasconderla con una password e anche di esportare le note in formati diversi quindi pdf word eccetera l'ultima cosa che vi mostro è la gestione dei permessi perché è simpatico che huawei abbia quasi anticipato android 11 nonostante qua ci sia appunto android 10 per quanto riguarda la gestione dei permessi infatti adesso soprattutto per alcuni permessi speciali come per esempio la localizzazione non potete più andare ad attivare il concedi sempre nel momento in cui andate ad installare un'applicazione ma dovrete per andare a concedere questo tipo di autorizzazione entrare poi nelle impostazioni dell'app e andare a consentirla sempre in questa maniera altrimenti non verrà attivato questo permesso è una scelta interessante perché evita diciamo gli utenti meno esperti di andare a concedere autorizzazioni totali ad applicazioni magari malevole che poi magari o consumano batteria o vi tracciano in continuazione e voi magari non ve ne rendete nemmeno conto ecco nascondendo un po questa opzione secondo me è meglio e questo è tutto direi che ci sono dei cambiamenti interessanti nulla di stravolgente anche qua vedremo poi magari con la versione 11 di android che è arrivata proprio ieri se huawei andrà a implementare qualche novità con una versione della imui che a sto punto non sarà più la 11 ma magari sarà la 11.2 11.5 chi lo sa di solito huawei fa sempre così per il momento invece direi che è tutto come sempre se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like iscrivetevi al nostro canale io sono Matteo noi ci vediamo al prossimo video ciao